ciao a tutti ragazzi e bentornati anche oggi qui nel canale come leggete dal titolo si rega problemi problemi col violetto eppure grossi dodi scusate c'era un po di fiatone perché oggi sono tornato qui a potere e controlla il tutto compresi i lavori della scorsa volta beh ricordate ho fatto questi 20 metri quadri di gettata molto contento perché ero parecchio andato avanti quei lavori il problema rega che il tempo mi ha attirato un brutto scherzo lo scherzo è proprio questo ebbene si rega tutto quello che vedete sopra l'ho appena rastrellato vuoi dire che vuol dire raga ho preso il rastrello perché io camminando qua sentivo questo come se si rompesse una fetta de carasau insomma qualcosa un biscotto qualcosa di croccante in crackers insomma dicono ma che cos'è e c'ero passato col pick up ho detto ma ne che ci sono passato troppo presto però rega erano passate oltre due settimane e quindi non comprendevo rega sono arrivato alla conclusione che qui qui ha gelato quando ha gelato rega nell'esatta sera nell'esatta notte che io sono andato a gettare quindi mi ha fatto un bello scherzo eccolo qua guardate questa è tutta la gettata che ho fatto guardate vedete si sfalda tutta quanta così rega non so che cosa fare ho già contattato qualche diciamo esperto però come potete vedere tre quarti del lavoro che ho fatto la scorsa volta sono andato in cavalleria cioè io non so fino a dove si è scesa appunto la cementata e fino a dove appunto non non si sia attaccata ma il problema che sono andato anche a verificare un piccone ma vi faccio vedere un attimo allora ragazzi da una pulita così con la scopa ecco fatto così se potessi farvi vedere bene come vedete sotto c'è di nuovo la cementata e adesso prendo un piccone questo qui con la punta guardate lo faccio cadere da solo guardate vedete fa saltare tutto quanto e ho creato praticamente un sabbione e questo ragazzi non è per niente buono perché quella parte lì è proprio al centro di dove poi andrò a fare la curva quindi vuol dire che da che finisco il vialetto a che lo devo rifare passa un anno perché io ci passo però sempre col pick up carico ci farò venire magari qualcuno a scaricare il materiale devo un altro mezzo diciamo sempre motorizzato e rega sto cemento solo porterà via le ruote sopportano via le macchine quindi rega ebbene sì problemi problemi dati da appunto da una persona come me che non è del mestiere e non ha pensato appunto al fattore gelo qualcuno mi ha detto che mettono l'antigelo all'interno del del cemento quando lo mettono in betoniera io sinceramente non ci avevo mai pensato mi ricordavo che il cemento spaccava per via del troppo caldo quindi dove sta sempre alla lavorarlo marea purtroppo ma gelato e voi direte ma daniele come fai a saperlo guardate sto secchio in diretta rega guardate che roba ci sono due centi di ghiaccio dentro sto secchio rega due centimetri di ghiaccio che ancora non si è ancora non si è sciolto nonostante tutto oggi e ieri pomeriggio abbia fatto abbastanza caldo il problema qual è che a differenza della salita qui il pianerottolino qui come vedete ci sono le canne davanti ci sono le canne c'è sta sta albero c'è sta la casa della vicina quindi il problema qual è che non ha mai preso sole qui e quindi rega nei due giorni dopo che io sono andato a gettare che è successo questa non si è mai asciugata inoltre è ghiacciato quindi rega tutto quanto il cemento è venuto a galla e si è scrostato ha fatto questo crostone infinito e io adesso non so più dove mettere le mani credo che la cosa migliore sarà innanzitutto aspettare che le temperature cambiano un pochino ma guardate rega che roba una volta che avevo fatto una bella piazzola comunque la cosa migliore da fare al momento è primo aspettare che le temperature migliorino quindi aspettare un attimo che saliamo sopra i dieci gradi come minima ma non tanto alti e la seconda è che qualche betoniera quindi cariola la faccio un po più piena di sabbia e la vado a stendere al di sopra di qua in modo tale appunto da da creare sopra un micromanto perché comunque sia raga a dura è dura però il problema è che come vedete si sfalda e non è dura come la pietra non è dura come questo quindi ragazzi problemi problemi al potere e io contavo di continuare appunto la lavorazione del galetto infatti mi ero portato una balla di sabbia sono mille chili un'altra mezzo tonnellata quella piccolina più dietro c'è sta un po di misto che era rimasto in più era rimasto lì dietro dietro la balla da mille chili c'è sta altri 200 chili credo di sassi di breccia quindi ho detto vabbè con questo più altro cemento ce l'ho ancora una quindicina dei sacchetti ho detto vado avanti e proseguo qui il vialetto almeno ad arrivare insomma alla fine qui delle reti elettrosaldate raga purtroppo non mi è possibile guardate che è una cosa incredibile ragazzi non c'è segreto troppo ragazzi coi lavori sul vialetto quindi mi sono dovuto fermare mi sono dovuto fermare niente mo li rinizierò appunto non appena le le previsioni insomma il tempo sarà un po di più nella mia parte evitiamo gelate magari prendo un pomeriggio un po più caldo oggi rega sto con la maglietta sotto al giacchetto e basta sì c'ho il cappello in testa però non fa così freddo il motorino magari oggi sono venuto il motorino perché oltretutto c'ho pure problemi col pick up altro tasto dolente rega lo sapete che quando vengono i problemi non vengono mai da soli ma vengono tutti insieme una pressa all'altra ma una volta che sei finito di solito di risolverli a ritornare un'altra volta tutti quanti che devo fare purtroppo è così e guardate come ci passo solo il piede vedete si fa proprio si scrosta si si leva tutto non so che fa al momento quindi sono fermo anche se da sta parte non ha fatto niente di attaccato piuttosto bene quindi non lo so se vede forse che in questa parte c'era un po più sabbia che quindi abbia legato meglio con l'acqua e col cimento e quindi abbia tirato meglio magari regata st'altra parte c'era un po più debbreccia e non ha tirato bene perché era troppo liquida e non compatta non papposa insomma con con la sabbia rega scusate i miei termini tecnici papposa però è perché per cercate di far capire insomma quello che sto pensando poi magari qualcuno qualche esperto del canale me saprà di più me saprà di meno me sarà da una spiegazione migliore di papposa ovviamente niente quindi col vialetto per adesso avremmo un pochino di stop guardate che roba ci mancava così poco da da quel palo mancano sei metri per arrivare alla fine lì del nella piazzola all'inizio della scelto mancavano sì e no quattro giorni di lavoro comunque come volevo far vedere pure sul vialetto ho fatto una distesa dei calcinaccio qui sono arrivato fino a metà della salita qui invece sono arrivato quasi alla fine questo perché vi ricordate l'altra volta il il camioncino non è riuscito a venirmi a scaricare il materiale perché c'era troppa fanga perché secondo me lui accelerava troppo però questo è una mia cosa perché regà qua ci sono passato mille volte carico con le macchine che avevo prima del pick up ci sono venuto con i furgoncini ci sono venuti quelli in lago con la roba per farmi il pozzo che non avevano 4x4 ci sono saliti tutti tranne lui che fa consegne dei materiali anche il vicino luigi mi disse che che portai loro da lui il misto sabbia e ghiaia fece avanti indietro avanti indietro avanti indietro questo questo furgoncino perché non riusciva appunto a salire io ribadisco dava troppo gas perché se è fangoso per terra e tu accelere la manetta la ruota non fa grip e non sai comunque questo qua scusate un attimo di sfogo niente per adesso vialetto bloccato così con i lavori fermo aspettando migliori giornate intanto state vedendo i video sulla casetta come penso siete contenti come me dell'inizio appunto dei lavori che sto facendo dentro casa e ovviamente regà ci sono tanti lavori che io ho già iniziato già sto facendo già continuato però ancora non li avete potuti vedere per il semplice fatto che non sono terminati e col fatto che le lavorazioni stanno diventando sempre più complicate più complicate regà perché ripeto io non so del mestiere cerco di fare quello che posso coi tempi che posso anche perché devo lavorare pure io e poi diciamo anche che a livello economico regà non è che posso fare tutto quanto insieme quindi piano piano sto facendo tanti lavori dove sto cercando di far vedere quanto più possibile quindi abbiate pazienza e soprattutto se vedete magari che vi pubblico un video che sto a mezzemani che è pieno è perché è un lavoro che ho iniziato dall'estate e ho terminato nell'inverno quindi regà abbiate anche un po pietà ce la sto mettendo tutta comunque sia per fare tutto questo da solo ogni tanto viene qualche amico ogni tanto viene qualcuno a darmi una mano questo sì lo ammetto però ricordatevi sempre che io so uno il potere è uno anche il cane è uno siamo qua insomma e facciamo quello che possiamo niente ragazzi io con questa bella giornata e con i danni al mio vialetto vi saluto vi invito sempre a iscrivervi al canale instagram daniele faccio cose così che rimane sempre aggiornati su ogni mia lavorazione un saluto a a tutti e alla prossima ciao